mino quest'oggi siamo a cerete alto e iniziamo ad occuparci della cappella dell'annunciata si tratta di una cappella che contiene uno dei cicli pittorici più interessanti della cultura bergamasca del primo cinquecento è stata commissionata e costruita tra il 1503 e 1512 ma come vediamo la cappella è stata tamponata all'esterno nel 1725 quando è stata demolita la vecchia chiesa parrocchiale da rovario che è proprio qui dove siamo noi questa cappella principiata tra il 1503 dopo che uno dei marinoni per la precisione grazie a un testamento battistino federichino marinoni la cappella è stata quindi costruita tra il 1503 e 1512 la data si vede fuori all'esterno si vede era stata costruita ad ampliamento della vecchia chiesa e nella canonica posizione dell'altà maggiore quindi nella cappella la cappellania diciamo così privata ma nella chiesa occupava la parte più importante e preeminente noi ne vediamo l'esterno ne vediamo sull'esterno abbiamo una serie di di affreschi che poi non sono coerenti dal punto di vista stilistico con gli affreschi all'interno quindi sono stati fatti precedentemente sulla facciata sulla parete laterale della chiesa prima e durante e post la costruzione della cappella sulla facciata troviamo anche i lacerti dello stemma della famiglia marinoni nelle versioni differenti delle bande oblique in rosso e bianco sovrastate dal gallo che tiene un fiore la fresco dell'annunciazione che vediamo sopra la porta d'entrata in alto è posteriore rispetto agli affreschi intorno ed è attribuibile secondo gli esperti alla bottega dei marinoni di esenzano si trova sull'esterno superiore della facciata sovrammesso un altro stemma della famiglia marinoni frammentato come quindi integrazione posteriore alla costruzione della cappella del 1512 così come vediamo queste decorazioni questi affreschi sono quindi da separare dal punto di vista artistico dal punto di vista degli autori rispetto a quelli interni della cappella che vedremo successivamente come la figura di san bernardino e sant'antonio sulla sinistra e il politico probabilmente votivo con antonio la palova rocco sebastiano e caterina d'alessandria che si trovano in alto se noi guardiamo la cappella vediamo che sulla sinistra si vede un altro fabbricato che era annesso alla cappella marinoni era sicuramente il sepolcreto con tre sepolchi diversi per i maschi le femmine i bambini come si usava allora in cui sono stati sepolti molti bambini della famiglia marinoni compresi quelle del ramo di clusone quindi la facciata è quello che resta dopo il 1725 quando è stata tamponata dopo la demolizione della vecchia chiesa